con l'esercizio numero uno cominciamo a scoprire come si scrive la musica facciamo così la conoscenza del pentagramma questa serie di linee sovrapposte il pentagramma si usa per scrivere la musica all'inizio di ciascun rigo musicale troviamo la chiave di violino di sol a fianco ad essa l'indicazione sul tempo ovvero su quante pulsazioni dovremo battere in ciascuna misura musicale in questo caso sono quattro pulsazioni la misura musicale è quella contenuta tra due stanghette questa 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 e così via ciascuna misura musicale in questo brano dovrà contenere quattro pulsazioni quattro battiti andiamo infine a conoscere le note musicali vediamo questi ovali sdraiati in questo caso sono privi di gambo e sono vuoti all'interno questa figura si chiama semibreve e dal valore di quattro pulsazioni ecco dunque quattro pulsazioni per ciascuna misura in questo caso si realizza con una nota che vale quattro pulsazioni essa stessa quindi una sola nota per ciascuna misura musicale a seconda della posizione che ciascuna nota ha rispetto al pentagramma cambia il nome della nota in questo caso abbiamo due note sotto il pentagramma questa è la nota do e questa è la nota re che tocca il pentagramma e poi abbiamo tre note che invece sono dentro il pentagramma la nota mi è sul primo rigo la nota fa è subito sopra sul primo spazio e la nota sol è ancora sopra sul secondo rigo le cinque note che andiamo a conoscere con questo primo esercizio sono dunque do re mi fa e sol andiamo adesso ad eseguire per intero questo esercizio numero uno facendo attenzione a dire il nome corretto di ciascuna nota ed anche a battere il tempo di quattro quarti ovvero di quattro pulsazioni con una mano in maniera da tenere il tempo corretto do 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 re mi i mi i i do 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 re re mi i mi i i i Fa Sol 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 Fa Mi Re Do 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 Re Mi Re Mi Fa Mi Fa Fa Sol 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 Fa Mi Fa Mi I I Re E E Do O O O O Questa doppia riga finale, la seconda più spessa della prima, indica la fine dell'esercizio. Che Do Desen Da Da Lo Do Da 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 Grazie.